Ragazzi ben trovati, prima di iniziare i due capitoli interamente dedicati al mondo del bianco e nero in pre e in post produzione non dimenticatevi di lasciare il mi piace al canale noi ci teniamo tantissimo, abbiamo fatto questo contenuto con tanto impegno e siamo sicuri che troverete tanto materiale su cui riflettere e formarvi se vi piace mi raccomando lasciateci il vostro commento, iscrivetevi soprattutto al canale perché vi vediamo, siete tantissimi a navigare sul canale ma molto spesso le persone tendono a non iscriversi beh ci teniamo tantissimo che questo avvenga, almeno in questa occasione visto che ci abbiamo messo tanto impegno grazie di cuore e buona visione con la prima parte secondo te è un problema se faccio il video col giacchetto? e tu ti preoccupi del giacchetto? ma non lo vedi che ci manca il colore? non è tutta una finta ragazzi allora tanto andiamo a colori ok che tu fai sempre il giullare quando monti questi video ragazzi eravamo in bianco e nero perché oggi avete visto sicuramente dal titolo del video vi vogliamo parlare in ambito fotografico e videografico di quella che può essere la scelta del mondo del bianco e nero sono tanti anni ormai che siamo passati a questa meraviglia della tecnologia ormai ci siamo abituati ma certo non è sempre stato così no allora la fotografia a colori diciamo che è nata nel momento in cui la Codac ha reso disponibile la sua pellicola la prima pellicola a colori nel 1935 la Codacrom intanto io pensavo di meno no sì però l'uso reale si è spostato negli anni 50-60 realmente per quanto riguarda invece la televisione parliamo intorno al 1953 quando i nostri amici americani hanno potuto cominciare a vedere le prime trasmissioni a colori solo però negli anni 60 se non ricordo male sono arrivati qui da noi no da noi noi parliamo del 78 se non erro la Rai ha cominciato a fare le sue prime trasmissioni a colori nel 78 io personalmente avendo i capelli bianchi mi ricordo ancora le prove tecniche di trasmissione figo figo sì me le vedevo in bianco e nero perché avevamo il televisore in casa ma tu sai che vendevano delle cose da attaccare al televisore per farlo diventare a colori delle pellicole colorali blu sopra e verde sotto se per questo io quando ero ragazzino mi ricordo che io avevo la mia prima televisione già avevamo quella a colori però la mia prima televisione è stata in bianco e nero la mia personale in camera mia no a valvole e mi ricordo che avevo pensato già ero il tecnologico della situazione avevo pensato di scrivermi una tabella sì dove il grigio con una certa tonalità era rosso allora c'è come se io potessi descriverci già ti davi alla colorimetria di Damici insomma ragazzi avrete capito che vogliamo parlare di questo argomento come non tanto come storici né tantomeno come tecnici nel senso di colorist perché è un mestiere difficile questo e che comprende tra le altre cose figure quali il direttore della fotografia il fotografo deve saper fare fotografia in bianco e nero perché chiaramente non basta togliere la saturazione la storia ce l'ha insegnato no? certo poi il fotografo purtroppo lavora su una cosa reale quindi il mondo non è in bianco e nero è a colori quindi deve adottare certe tecniche per poter dare una milione di risa nel campo invece di produzione televisiva ricordiamo che negli anni 60-70 poi enti le scenografie, i costumi erano tutti quanti adeguati al mezzo televisivo di fatto erano bianchi e neri come negli anni 70-80 poi uscirono le televisioni a colori allora tutto era colorato, tutto sgargiato ci fu un'esagerazione, era tutto colorato beh se per questo mi ricordo anche i primi album che dal mono passarono allo stereo io ero già grande, ero già ancora piccolo però mi ricordo che mettevi cioè i Beatles hanno fatto, o anche i Deep Purple mi ricordo a destra c'è la batteria, a sinistra c'è la batteria un ambiente ampissimo va beh questa è la storia la storia moderna invece ci insegna che il bianco e nero ed è qui che vogliamo cominciare il nostro video ci insegna che il bianco e nero può essere un racconto interessante a tal proposito uno dei fotoreporter da poco scomparsi Ted Grant diceva proprio la fotografia a colori può mostrarti il colore della realtà ma solo il bianco e nero può mostrarti l'anima ecco è un bellissimo pensiero che secondo me in qualche modo rappresenta quello che è lo spirito di chi spesso e volentieri decide di dedicarsi in maniera importante al mondo della fotografia ma anche del video in bianco e nero ci sono famosissimi film anche recenti che hanno visto questo evolversi verso un passato remoto del mondo del bianco e nero e quanti fotografi ancora oggi prediligono esprimersi in questo modo rispetto al colore è proprio veramente bianco e nero si parla di arte ma senza voler sminuire il colore per carità sono due forme d'arte completamente disgiunte ma vicine anche se vicine insomma a tal proposito quale sono e quindi andiamo verso un po' quello che può essere i motivi che ti portano uno l'abbiamo appena detto è la forma più intima dell'arte che stiamo proponendo quindi a parte l'emozionalità quali altre motivazioni possono portare un artista nell'ambito foto ma anche nell'ambito video a scegliere questa forma di espressione? sicuramente nel momento in cui io voglio mettere in risalto quelle che sono le forme o anche i contrasti nelle luci, nelle illuminazioni quindi immaginando dei paesaggi urbani ad esempio architettura ritratti beh l'architettura mi viene in mente il classico contrasto tra magari il cielo molto azzurro rispetto al certo io per esempio a me piace predifico la street photography in bianco e nero per me è come si dice da qualche parte è la morte sua ok un'altra cosa che mi viene in mente sono i ritratti ad esempio è vero sì perché pure lì se voglio mettere in evidenza delle forme particolari dei caratteri particolari del soggetto bianco e nero secondo me è più congegnale sono d'accordo mi vengono in mente i famosi ritratti diciamo di uomini magari datati cioè che hanno un'età importante quindi con le rughe dove magari aumento un po' i contrasti per esasperare le texture della pelle sì sì assolutamente ci sono autori che hanno fatto veramente un'arte cioè hanno trasformato in un'arte questo modo di esprimere i volti un po' vissuti ma anche se vogliamo anche le donne io mi vengono in mente i famosi film degli anni anche 50, 60 dove veniva accentuato tantissimo Hitchcock sì Hitchcock che rendeva quell'atmosfera quali altri film ti vengono in mente degli anni quantomeno insomma ecco un po' più dettagli altri film che sono nati nel momento in cui avevamo comunque il colore ma sono stati volutamente bianco e nero per esempio Frank Steyn ah è vero perché lì dovevi rendere l'idea sia di riallacciarti ai film del passato che su Frank Steyn ne sono stati fatti parecchi ma anche di rendere quell'atmosfera cuba cuba bianco e nero è sicuramente qualcosa di meno gioioso sicuramente ultima soluzione che ci potrebbe venire in mente è questa diteci se non vi è mai capitato è un trucchetto del mestiere sì 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 cioè a volte si può utilizzare il bianco e nero per recuperare delle foto a colori altrimenti sarebbero disastrosi disastrosi e inguardabili e invece magari il bianco e nero hanno un suo motivo di essere con il bianco e nero siccome abbiamo a che fare con contrasti più elevati una mancanza di definizione del colore oppure un colore rovinato può essere tranquillamente bypassato appunto annullando il colore stesso e quindi quello è diciamo il calcio d'angolo che non è artistico ma è assolutamente giustificabile almeno chi può giudicarci questa però non deve essere una modalità di lavorazione ma deve essere dovremmo essere capaci di saper fare un bianco e nero non utilizzarlo per fare e aggiungerei che magari qualcuno può pensare che diciamo chi fa bianco e nero non sa fare il colore no casomai è il contrario devi sapere fare il bianco e nero ora chiudendo questa parentesi sulle motivazioni che possono portare le persone a scegliere comunque il bianco e nero direi di analizzare quando è possibile fare il bianco e nero in fotografia e in video cioè quali sono gli elementi che possono dare un valore aggiunto al bianco e nero al fine di realizzare un bel bianco e nero o mi trovo una scena già confezionata in cui io non posso fare niente e quindi sta a me la capacità di poter dire ok qui per me un bianco e nero ci sta bene oppure nel caso di un set controllato sta a me creare quei presupposti come in particolar modo agendo ad esempio sulle luci la cosa più importante e qui riportiamo a quello che abbiamo detto prima contrasti e con l'illuminazione a mio avviso nel bianco e nero deve avere il contrasto certo perché altrimenti è un grigio è una unità di grigio che va da un più o un meno invece no che ci sono casistiche dove può anche funzionare io ho visto anche bellissimi lavori dove si ricerca la sfumatura di grigio e l'attenuazione però nel nostro ideale sicuramente il bianco e nero che funziona di più è quello in cui c'è il bianco e il nero ma anche perché il contrasto favorisce la forma in qualche modo devine i profili certo e crea una composizione dell'immagine e della scena e quindi luce sicuramente luce fra poco vedremo come poi direi costumi costumi perché non tutti i colori hanno una buona resa in bianco e nero soprattutto se affiancati bisogna evitare di confondersi ad esempio con la tappezzeria no? per esempio in questo momento io ho un ciubetto sullo scuro quindi rispetto alle poltrone sicuramente se andiamo in bianco e nero si vedono di meno quindi dovremmo sempre cercare di creare un contrasto con gli elementi scenici e quindi di pari passo anche la scenografia certamente questo nostro computer si stacca sicuramente dalla parete in maniera netta è evidente se fosse scuro chiaramente si vedrebbe di meno il colore non crea questo problema il bianco e nero sicuramente sì e non solo è anche estetico è qualcosa che in qualche modo danneggia e dà fastidio cioè diventa veramente piatto il contenuto se voi immaginate gli show storici della televisione italiana quella italiana che ne so i studio uno mille luci e roba varia erano fatti con una scenografia ad hoc per il bianco e nero erano bianchi e neri i ballerini ballavano con vestiti bianchi e neri colori erano quasi del tutto aboliti certo detto ciò anche il colore può essere enfatizzato o diciamo aiutato con dei piccoli stratagemi che fra poco vedremo prima di arrivare alla parte più pratica ma relativamente perché ripeto non siamo né DOP né fotografi né tantomeno scenografi stiamo qui a fare una chiacchierata con voi e anzi dateci il vostro parere diteci che cosa ne pensate ricordiamoci che siamo su un canale che nasce per fare formazione ma anche per condivisione e se tra le altre cose vi piacciono questi argomenti che voi siete fotografi o videomagra comunque ci teniamo a mantenere con voi un rapporto veramente di scambio di idee soprattutto quando si parla di argomentazioni che sono tra virgolette verso l'artisticità della nostra passione e a proposito di passione e a proposito dell'argomento di questo nostro video mi vengono in mente e io ho pensato a questo tema oggi te lo ho proposto Stefano proprio perché mi sono domandato quanto sia importante nel 2024 ancora oggi il bianco e nero nel mondo della fotografia lo è tantissimo forse anche osannato a dismisura e a mio avviso utilizzato per dimostrare qualcosa che spesso e volentieri non si è cioè conosco tantissimi fotografi che utilizzano il bianco e nero per dire io sono un fotografo un po' snob quasi una tecna quando cominci a fare il bianco e nero perché sei bravo esatto diventi un artista e a mio avviso invece ci sta chi sa fare il bianco e nero e chi non lo sa fare vedo dei bianco e nero orrendi e si capisce immediatamente quando non sei un fotografo che sa dosare la luce e appunto i costumi le scenografie e tutto il resto ma nel mondo del video invece mi vengono in mente gli esempi più tra virgolette eclatanti abbiamo tirato su qui qualche film ad esempio sicuramente quando penso a un bianco e nero mi viene in mente Schinders List un film che l'unica immagine che ricordiamo che non ha il bianco e nero è la classica famosa scena della bambina col cappottino rosso ma al di là di questa particolarità io mi ricordo la poesia di questo film cioè se guardiamo un'immagine come questa dove veramente c'è lo scavare all'interno della luce oppure quindi questa qui che abbiamo visto adesso piuttosto che il delineare del fumo guardate come le luci vanno a tagliare in una maniera importante l'immagine e ce ne sono alcuni su altri film veramente interessanti fra poco vi farò vedere oppure in questa immagine vediamo come vedi che c'è un contrasto tra tutto quello che è chiaro e quello che è scuro o ancora l'utilizzo delle luci a tagliare il volto come in questo contrasti di cui parlavamo contrasti di cui parlavamo guarda qui o ancora come in questo caso sempre la luce tagliente dura no? che spesso e volentieri nel colore non si usa si tende sempre a rendere più mordi dalla luce ecco nel bianco e nero è il contrario oh un altro film che mi viene in mente test in city assolutamente guarda queste immagini è che è un fumettone no? però il bianco e nero è congegnato è stato utilizzato il bianco e nero per dipingere ma d'altronde i fumettoni più belli sono anche il bianco e nero assolutamente mi viene in mente diabolico il concetto di questa immagine se prendiamo in esame questa immagine guarda come l'acqua viene assolutamente tagliata e illuminata di taglio in modo tale che comunque assume e questa è una tecnica che si utilizza moltissimo soprattutto nell'ambito del cinema quella di illuminare l'acqua proprio al fine di farla vedere altrimenti non la vedresti oppure creare questo classico effetto anni 50 sugli occhi ci sono tantissimi esempi di fotografie degli anni 50 dove si vede l'attrice con gli occhi assolutamente delineati dalla luce a spot a spot sì o comunque questo contrasto nettissimo guarda quanto sono dure le luci ma sono altrettanto bellissime quindi la distanza del faro ecco possiamo vedere qualche altra immagine qui siamo veramente al limite del fumetto guardate che belle come vedi sono quasi sempre luce spot e taglienti assolutamente taglienti si va a curare anche molto la parte di sfondo dell'immagine dove viene illuminata anche qui a contrasto quindi sempre con dei fasci di luce insomma questo è un altro film assolutamente importante da questo punto di vista e come non nominare l'ultima uscita anche se qui c'è da fare una piccola parentesi almeno per quello che è la mia visione tutti abbiamo visto perché è stato uno dei film più importanti dell'ultimo anno campione di incassi e per fortuna che per una volta un campione di incassi non si è come posso dire attribuito ai soliti cinepanettoni piuttosto che ai film un po' qua così supereroi o cose varie ecco perché di norma siamo o su film decadenti da un punto di vista di contenuto cinematografico oppure su effettistica quindi supereroi e marvel e compagnie bella di tanto in tanto e raramente c'è per fortuna chi sperimenta ancora il linguaggio del contenuto e lo fa anche artisticamente come è stato il caso di c'è ancora domani di paolo cortellesi che assolutamente ha azzardato un linguaggio in bianco e nero secondo il mio punto di vista magari qualcuno adesso qui mi dirà tu sei uno che non capisce niente eccetera eccetera però io ci tengo a dire una cosa stefano secondo me nel momento in cui si adotta il bianco e nero si può adottare il bianco e nero in maniera stilistica che può piacerti o meno cioè un buon bianco e nero è comunque dosato nel modo giusto calibrato secondo le scenografie giusti i costumi giusti le esposizioni giuste eccetera però come abbiamo visto negli esempi che abbiamo visto fino adesso c'è un modo di dipingere le immagini in questo modo c'è un modo di farlo in questo modo e poi c'è chi sceglie il bianco e nero in questo modo cioè dove si va più verso i toni di grigio cioè si può rientrare nel gusto di come utilizzare il bianco e nero personalmente il bianco e nero di questo film che reputo interessantissimo in una forma espressiva e comunicativa e di storia però da un punto di vista prettamente del il bianco e nero che è stato scelto a me personalmente non è piaciuto non tutto ci sono delle scene più o meno azzeccate però spesso e volentieri il bianco e nero per me è stato un bianco e nero un po' desaturato un po' attenuato un po' desaturato malgrado come possiamo fra poco sentiremo dalle parole di Paola da lei stessa è stato curato da questo punto di vista e si vede perché i consumi comunque sono scelti per essere in bianco e nero vedete anche in questi esempi che stiamo vedendo cioè è classico si vede proprio che c'è una scelta no? le azioni le scenografie tutto quello di cui parlavamo prima mi sono dilungato un pochino perché era doveroso qualcuno poteva subito additarmi come qualcuno che non ha capito per esempio questa è una bella immagine certamente infatti vedi che questa è molto più contrastata del resto si è usato un pochino di più ecco assolutamente ci sono anche altri esempi ho visto e si vedono sul film assolutamente degli esempi egradanti come in questo caso molto bello però di tanto in tanto compresa la copertina del film secondo me non è un bianco e nero così interessante a mio avviso ecco questo lo volevo dire vediamo un piccolo estratto del film di Paola in cui spiega proprio questo aspetto sono femminile lì mi ha molto ispirato e io me le sono immaginate in un mondo antico per me era molto antico da ragazza quando ti immagini una cosa antica delle immagini non so perché il bianco e il nero e così l'ho voluta realizzare mi sembrava la cosa più lineare per raccontare questa storia facendo il film in bianco e nero abbiamo anche fatto caso ai contrasti Paola Comincini e Alberto Moretti i costumisti hanno fatto molta attenzione a distinguere gli abiti dalla tappezzeria della casa nel senso che può diventare un unico grigio ed può essere fastidioso le scenografie sono straordinarie delle ambientazioni dei costumi veramente curati e molto precisi ai riferimenti dell'epoca si vede la cura nel dettaglio quindi si vede l'investimento sia di tempo che di denaro che di energie che è stata fatta per questa produzione Amici di Promiso ci fermiamo qui per il momento se ti è piaciuto e ti sta piacendo il modo in cui ti raccontiamo il bianco e il nero abbiamo pensato di continuare questo percorso in un luogo dove ha più senso parlare di formazione di come fare cosa beh questo canale è Simone Durante Academy se ti interessa questo argomento se ti è piaciuto il modo in cui te lo stiamo raccontando ma soprattutto se vuoi scoprire come ottenere un bianco e nero da tutti i punti di vista impeccabile beh segui il secondo capitolo che trovi su Simone Durante Academy e ti lasciamo in descrizione appunto il link per vedere la seconda parte cogliamo occasione io e Stefano per invitarti e ci farebbe veramente tanto tanto piacere molti di voi già l'hanno fatto ma se questo diciamo può essere un incentivo a farvi capitare sul nostro secondo canale è il momento di farlo trovi in descrizione il link al video in cui puoi vedere come può sprodurre sia la tua foto sia la tua video puoi capire come impostare le luci per far sì che i tuoi bianchi e i tuoi neri risultino al meglio puoi capire come approcciare anche alla scenografia insomma ci sono tanti contenuti completamente gratuiti non devi far altro che cliccare sul link che trovi in descrizione e vederti la seconda parte che abbiamo riservato al canale Simone Durante Academy e che continua pari pari da dove siamo rimasti in questo momento mi raccomando segui la seconda parte e soprattutto iscriviti al canale Simone Durante Academy perché continueremo a darti questo tipo di supporto questo tipo di formazione grazie per il momento da me e da Stefano ciao